finisce qui 3 a 1 in atalanta lazio e sono molto dove essere caldo perché sennò c'era qualcosa che gravi bisogna analizzare le partite bisogna uscire il personaggio quello di farmato url non stiene niente così il problema è che il problema è che tu c'è una squadra che buona ma ci sono certi elementi che non possono giocare in serie a sare delle colpe grandi perché la lazio non si può guardare io spero che venga sannato che sapere perché sennò manco in europa league manco in europa league l'atalanta ha fatto una grande partita fino all'inizio ci ha messo in difficoltà la lazio non sono tempo non ha fatto niente neanche prima ma siamo tempo che noi ci aspettavamo non lo so è casomai che insieme a una piccola reazione niente niente di niente il gol di mobile non cambia niente non è quello il problema il 31 non cambia niente 30 31 sempre ricorda preso e sempre zero punti riporti a casa da uno sconti diretto che tu perdi perdi quindi anche uno sconti diretto negativo con l'atalanta perché tu hai perso l'intutore a dura andata non verso 3 1 ritorno mi dice pure se pure se pure sotto che sconti diretto l'atalanta e la cosa bella che tu metti in campo una formazione no poi tu togli i quattro giocatori nel secondo tempo il problema che tu che tu non riesci a fare nulla la squadra non è scesa in campo e stasera anzi la partita un minuto è durata l'azione felipe poi basta il palazzo è sparita dal campo non ha fatto niente è una cosa imbarazzante perché se tu la società deve colpe i giocatori sono i primi responsabili l'allenatore che non sta dando niente a una squadra la sta soltanto impoverendo la sta soltanto rattristando non giochiamo più non c'è più niente non si vede niente giocatori non sanno quello che devono fare in campo e la cosa grave che ancora rimane in panchina sarri ma io mi parisco una cosa la colpa ce l'ha anche sarà la colpa grande di sarri della società e giocatori ma io a giugno voglio quei giocatori meno una metà della squadra deve andare via perché non si può guardare non sono motivati e non si possono guardare marosic di la via casale sta giocando male ma il po fa e risalberto non si può vedere filippe anelson vada via la juventus non pensi il cazzo vuoi andare a prendere i soldi va la juventus voglio vedere se che carriera farai la juventus ma la ed è peggio di qua ti massacreranno ma baila la juventus va a prendere pesci in fascia anche la juventus vai vai immobile purtroppo ha fatto una buona partita chiamamola così isaxen è troppo giovane non lo boccio però isaxen anche oggi male il problema di isaxen che si inceppa troppe volte col pallone si ci inciampa proprio sotto sul pallone non riesce a controllare e non si oggi così così migliori in campo di oggi rovella ragazzi l'unico che l'unico che ha dato qualcosa in più rispetto agli altri perché gli altri non si possono guardare dal primo ai panchinari dai titolari ai panchinari non si possono guardare e io spero che questa società intervenga con un bel do di petto potente e che cacci prima sali subito se no buttiamo già questa stagione in sala male se noi continuiamo con questo allenatore manco in conferenze di cavai quindi io spero che cambi stasera la società dell'allenatore perché se no non si può andare avanti perché la squadra non si può guardare la squadra non si può guardare non mi cazzo stavolta perché penso di essere lucido stavolta ma la cosa il modo con il quale tu hai perso questa partita è veramente una vergogna inaccettabile perché tu non puoi scendere capo in questa maniera di merda perché tu dopo l'azione in cui potevi anche fare gol potevi postare in vantaggio ti sei ti sei afflosciato per te non hai fatto niente non si può fare non si può fare perché tu sai l'interia se ne si va se ne va lo secondo il campionato i rinnovi non si chiedono così provvedela i rinnovi non si chiedono così romagnoli i rinnovi non si chiedono così felipe pure te zaccagni neanche te nessuno si deve permettere di chiedere i rinnovi perché stanno giocando tutti male i rinnovi si guadagnano soltanto se giochi bene in campo se non giochi bene i rinnovi non te li faccio perché non ti meriti un cazzo giocatore tempo nella società ha delle colpe gravissime perché tu non puoi non fare mercato a gennaio non puoi non fare mercato perché questa squadra è in difficoltà nella fase offensiva non è fatto niente neanche oggi non è fatto neanche un tiro in porta e questo è grave perché tu non fa neanche un tiro in porta con il napole zero di rimporta con il lecce un tiro in porta con l'inter zero di rimporta e oggi con zero di rimporta con l'atalanta un tiro in porta o l'atalanta ditemi voi se è normale una cosa del genere sentire questi numeri è da vergogna è una vergogna perché non si può guardare una scuola del genere non si può guardare questi numeri qua sono una squadra da retrocessione io mi vergogno mi vergogno di avere gente in panchina e gente in società in che va in campo senza palle perché non si può guardare una cosa del genere non si può guardare una squadra che non ha né capo né coda avevo perso in sei mesi tutte le cose dello scorso anno tutte faseggi modo di attaccare modo di difendere avevo perso tutte in sei mesi con tre quarti di squadra uguale a quello dell'anno scorso è uguale tranne sacks castellano secondosì rovella e camada e basta perché gli altri sono tutti uguali sono sono tutti lo scorso anno questa cosa è inaccettabile io spero che venga sbagliato sale perché sennò ce n'è veramente un casino sennò tu mago in una paliglia mai manca con franzi ciao ragazzi io dico una cosa grazie sare per quello che ci ha dato lo scorso anno ma il tuo ciclo è finito perché tu oggi hai tolto mar non hai tolto mar se c'è che è inguardabile non hai tolto felipe anderson se avessi avuto le palle non metti non togli non togli sacks non metti petro se tu c'hai le palle oggi e davi un senso diciamo uno sprint al gruppo tu metti che sei una fernandes oggi ciao